Siamo con Emanuele Torri, Assessore del Comune di Lecco allo Sport ed ovviamente parliamo del calcio Lecco del prossimo campionato e del prossimo nuovo rinnovato stadio Riga Monticeppi. Qual è il punto della situazione in questo momento, Assessore? Sì, sono state giornate davvero intense e ci hanno tenuto col fiato sospeso. In attesa di avere il risponso dalla federazione, diciamo che noi come Comune ci prenderemo l'impegno nel momento in cui, come tutti speriamo, la calcio Lecco verrà ammessa in Serie B, ci prendiamo l'impegno a fare tutti i passaggi necessari per studiare la soluzione migliore per garantire l'ordine pubblico perché al di là dei lavori nello stadio di adeguamento che verranno fatti in comune accordo con la calcio Lecco, bisognerà far sì che poi l'evento partita non vada ad impattare eccessivamente sulla viabilità e sappiamo che lo stadio si trova in una situazione di centro città con scuole vicine, centri commerciali, per cui bisognerà studiare la soluzione insieme a Prefettura e Questura per garantire l'ordine pubblico. C'è tutto l'impegno del Comune intorno a questo problema. Giustamente in una precedente intervista, nella precedente intervista l'assessore ricordò che quando venne inaugurata la targa che evidenzia nel tempo i cento anni dello stadio Ai Cantarelli, realizzato nel 22 nell'allora territorio comunale di Castello, nessuno poteva pensare o lontanamente si sarebbe pensato di una promozione dell'Eco in Serie B al termine dell'allora corrente campionato. No, no, assolutamente, è stata una sorpresa per tutti e come tutte le sorprese ci lasciano sempre dentro un ricordo indelebile, per cui nessuno a ottobre pensava a quello che poi è successo, però adesso è un evento talmente unico ed eccezionale che dobbiamo farci trovare pronti come città e dobbiamo assolutamente regalare a tutti i tifosi dell'Eco questa avventura della Serie B dentro la nostra città. E la partecipazione straordinaria della gente alla festa della promozione, anche nei cortei serali del Lungolago, nella centralissima Piazza Garibaldi, è l'indicazione maggiore e migliore di quanto entusiasmo abbia scatenato nell'opione pubblica questa inaspettata promozione, ma sicuramente meritata e conquistata sul campo con vittorie soprattutto prestigiose negli spareggi finali. Sì, fa piacere leggere in questi giorni, anche sui quotidiani nazionali, il continuo riferimento al merito sportivo. Io mi auguro che in tutta questa questione poi a prevalere sia questo aspetto, perché chi vive di sport sa quanto sia importante ottenere dei risultati col sudore, con la fatica, l'impegno, l'allenamento costante e sarebbe davvero un peccato togliere innanzitutto ai giocatori, a tutto lo staff, alla società, la soddisfazione di questa promozione, ma anche a tutti i cittadini lecchesi che hanno partecipato con un trasporto incredibile. Ho visto bambini, con i loro genitori, con i nonni, per cui è davvero stata una festa di tutta la città e di tutte le generazioni. Non possiamo togliere questo sogno a tutte queste persone. Ecco, parlando di un altro sport, dal calcio al tennis, chiedo all'assessore di ricordare che il tennis groblecco ha confermato con un bel campionato di rimanere in serie B1 e annuncia anche dei nuovi programmi in una prossima assemblea che dovrebbe avere luogo, se non ricordo male, il 6 luglio prossimo. Diciamo qualcosa anche con questa squadra che onora lo sport lecchese. Sì, grandi complimenti al tennis club. Proprio nelle domeniche scorse ho avuto modo di assistere ad alcune competizioni. Ho visto davvero tanto impegno da parte dei giocatori e anche a me hanno riferito che la società sta pensando in grande, sta costruendo una squadra per cercare di salire di categoria. Non dobbiamo dimenticare che tutte le prime squadre della nostra città navigano veramente in acque meravigliose, perché abbiamo la Picco che è in serie A2, e abbiamo la squadra di calcio A5 che è in serie A2 Elite, che è il passo prima della serie 1. Abbiamo la squadra di rugby in serie B. Insomma, adesso senza voler dimenticare nessuno, però davvero possiamo vantare di avere squadre che a livello sportivo si stanno veramente affermando anche a livello nazionale. Ecco, c'è un bilancio sportivo che si allarga anche alla montagna, perché ultimamente in alcune arrampicate e in alcune prove di selezione nazionale e internazionale si sono distinti i rani della grignetta sia nel settore maschile che in quello femminile. Quindi accomuniamo tutti anche in questa citazione, in questa menzione, in questo elogio che è un augurio rivolto al futuro. Sì, sì, soprattutto la nostra Beatrice Colli sta continuamente infrangendo record, per cui davvero siamo molto fieri di tutti quelli che portano il nome della città di Lecco nei più meravigliosi panorami nazionali e internazionali dello sport. È una città meravigliosa la nostra, che può, diciamo così, contemplare sia sport, sia la montagna che all'acqua e quindi non possiamo che essere fieri e orgogliosi di tutto quello che i nostri sportivi fanno. E per non dimenticare nessuno citiamo anche il lago che ci sta alle spalle, i risultati della vela, delle regate veliche, della partecipazione di un lecchese alla regata oceanica dall'Africa alla Sud America e ancora a Oriana, che si appresta dopo aver partecipato alla competizione, al record nella piscina termale di Bormio, si prepara a un record nelle acque dell'Ario a fine dell'imminente mese di agosto. Sì, 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 proprio il 14 luglio ci sarà una serata in centro, in piazza Garibaldi, sul palco dove Andrea racconterà delle sue imprese e presenterà quest'altra impresa che si appresta a vivere, quindi tutto il giro del lago in due giorni e quindi davvero siamo orgogliosi di tutto quello che questi ragazzi e queste ragazze fanno per la nostra città. Quindi un panorama ricco, completo, complesso, se abbiamo dimenticato qualcuno chiediamo scusa ma non l'abbiamo fatto apposta. Sarà per un'altra puntata eventualmente. Intanto la prossima puntata aggiorneremo sempre gli sportivi sul calcio a Lecco. Assolutamente, sì, sì, sono proprio i giorni decisivi per cui stiamo sempre sintonizzati.